we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi daie che finalmente ci siamo manca davvero pochissimo a questa tanto tantissimo attesa patch per la 9.20 ragazzi ci hanno fatto aspettare più del dovuto speriamo che sia servito ad avere dei contenuti in game molto molto più fighi e quindi ragazzi non ci aspetta che fare il nostro aggiornamento e porca miseria goderci la 9.20 nel video di oggi però ragazzi vi parlerò innanzi mi hanno blindato la x sky raga mi hanno blindato gli fatto l'ammazzata finale vi spiego che cosa è successo al povero x sky ragazzi nonostante ne abbia già passate un bel po anche questa gli mancava e come vi ho anticipato gli ha dato il colpo di grazia ma parleremo anche di alcuni segreti che arrivano direttamente dalla season numero 8 ragazzi che sono collegati ovviamente all'evento della season 9 e ovviamente anche qualche leaks che forse non tutti hanno visto in modo da potervi tenere sempre aggiornati anche sul dietro le quinte di fortnite prima però voglio ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xyuderone quando scioppazzate di prepotenza grazie di quale ragazzi per sostenere il channel mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e soprattutto di 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 attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima è prima ragazzi c'ho da farvi la domandina ci tengo tantissimo alle vostre risposte proprio qua sotto e anche ieri mi avete risposto davvero in una moltitudine ragazzi domandina non ve l'ho ancora fatta ve la devo fare ma cosa ne pensi dello starter pack dai ragazzi a parer mio è veramente veramente bella la skin non posso criticarla perché ci sta addirittura forse più di quella del pack precedente io l'avevo scioppato solo per la skin delle armi la copertura ma invece questo starter pack mi piace proprio da usare poi come sempre i 600 vbucks extra non fanno mai male ditemi ragazzi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi è lui ragazzi è lui è il nostro ice sky al centro di polemiche oramai da più di due settimane da quando il signor tfew fece uscire quella denuncia al face clan per il discorso che mi si ubriaca la ice sky quando sono nella casa nella face house in california gli dan da bere la ice sky che in realtà ha 13 anni quindi non può bere mi viene sul casino perché parte una nuova denuncia la ice sky dove dicono in realtà il giovanni merlo ha barato sull'età ragazzi si scopre che non ha 13 anni bensì al momento dell'accusa ne aveva 11 ragazzi e questo ha fatto sì che poche ore fa anche twitch gli ha bannato l'account ragazzi per le normative di twitch ogni persona che va in streaming sotto ai 13 anni è obbligata a farlo insieme a un adulto per tutelare ovviamente la persona stessa che potrebbe incappare a situazioni spiacevole ice sky mi andava in streaming da solo twitch dopo la denuncia di del face clan gli blinda l'account e finché il ragazzo non compie i 13 anni molto probabilmente non lo rivedremo più nella scena del gaming mondiale ciao è stato un piacere ma andiamo avanti ragazzi e parliamo invece di un grande grandissimo ritorno lo conosciamo alcuni lo hanno anche giocato altri forse non lo hanno mai visto è levy shotgun il pompa pesante come lo chiamavamo noi in gergo e potrebbe davvero fare la sua comparsa insieme alla revolver quella che vi ho fatto vedere ieri ragazzi arriva proprio su reddit queste righe che sono state prese in seria considerazione dai dal team di sviluppo di epigames che racchiudono queste parole gli shotgun i fucili a pompa devono avere devono avere la certezza di essere presi da ogni giocatore almeno una volta in partita questo per garantire appunto un gameplay più pulito quindi pompa mitraglietta ar cecchino bende insomma la classica scia delle armi e viene anche menzionato il fatto che si trovano in game per ogni fucile a pompa almeno 10 mitragliette il che è ovviamente sproporzionato con il drop rate dei fucilazzi a pompa questo ragazzi fa quindi alzare le orecchie al team di epigames anche perché viene detto non è possibile che io arrivo in end game con un tac grigio perché non trovo i pompa in giro ed è vero spesso ci capita di arrivare proprio in chiusura con il tac o grigio o verde che sia insomma non avere un fucile a pompa un'arma da offesa che sia degna di un end game tra l'altro ragazzi innanzitutto queste erano sono le statistiche dei dei fucili a pompa come vedete 77 di danno per la versione leggendaria con un tempo di ricarica di 5,6 secondi e un caricatore da 7 colpi tra l'altro ragazzi nell'immagine una delle immagini ufficiali della season 9 si vede la skin che se non ricordo male si chiama traveller una roba del genere imbracciare proprio levi shotgun quindi potrebbe semplicemente essere un piccolo easter eggs che ci lascia presumere che prima del termine di questa season che sarà il primo agosto potremo rivedere in game il nostro tanto amato pompa pesante che veramente a me personalmente manca ma andiamo avanti ragazzi e parliamo anche di una cosa invece appena inserita nei file di gioco non se ne sa davvero più di queste quattro righe è una nuova modalità a tempo limitata ragazzi si chiamerà fort light come vedete light vuol dire in questo caso è inteso come leggero una cosa meno pesante e come vedete saranno probabilmente partite giocate in squad perché questa è relativa come vedete nella prima riga playlist name playlist light squad in 50 giocatori quindi bisogna un attimo capire innanzitutto come mi dividi 50 in squad da 4 perché non è possibile farlo e non è possibile neanche in squad da 3 bisogna vedere se verrà decisa di fare in duo o se semplicemente è una prova e poi la modalità andrà giocata in single modo questo secondo me può essere un buon motivo per far partite più brevi quindi parti in 50 magari prendi meno punti ma sbrighi anche più velocemente la partita tanta tanta roba e per chiudere ragazzi i segreti della season 8 vi ricordate sicuramente la mappa del tesoro quella che in realtà oltre a mostrarci proprio la x del tesoro nascondeva delle cose super interessanti la prima ragazzi proprio sopra di me ecco un po più spostata il kraken o meglio il mostro che potrebbe tranquillamente essere associato al mostro a quell'occhio gigante che è presente nella grotta di picco polare la seconda ragazzi il drago in realtà disegnato sotto forma di lama sputa fuoco ma drago potrebbe essere associato all'impronta che c'è alla base del lago ghiacciato o molto semplicemente alle uova di drago da cui poi è uscito ibrido e per finire ragazzi il sole questa è la cosa più interessante che potrebbe stare a significare lo scioglimento del ghiaccio quindi un'afa estrema un surriscaldamento che potrebbe davvero modificare la morfologia della mappa e quindi regalarci una season 10 con molta molta meno neve beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video ovviamente non dimenticatevi di passare nella mia pagina instagram soprattutto per scoprire tutte le novità della patch 9.20 vi ringrazio per essere stati qua iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle 13 e 30 ciao ciao